Ciao a tutti ragazzi, vi ricominciando con un nuovo video Io sono... Che ho detto? Vabbè Vi ricominciando con un nuovo video Oggi facciamo un Jiggly Slime Che video di iniziamo Allora, prendiamo una ciotola E la colla villinica Voi lo sapete che uso questa Che non... Penso che ce l'ha o non ce l'ha Ma aspettate Mi voleva una satella raga Vabbè, cominciamo con versare la colla villinica Che mi è quasi finito E la vado a ricomprare dopo O domani, non lo so Però la devo avere Perché ora mi ho trovato su Amazon Quella da 5 litri Di questa qua E ho detto no La devo assolutamente prendere Vabbè, versato la colla Mettiamo la schimola barba della Squib Non so perché Mi è venuta una capita Che bui sopra E ne mettiamo poca Questo però non sarà un Jiggly semplice Ma sarà un Jiggly Fluffy Vai, mescoliamo Cominciamo a mescolare Ragazzi, se vado a prendere un poco di amido Eh, di amido Se vado a prendere un poco di amido di mails No Nello slime non ci vuole Nello Jiggly soprattutto Ok, aspettate Ho fatto un bocchino Anche se non ci dicono questi parole Ora se vado di là Allora, ora vestiamo un poco d'acqua Che ne ho messi in questa bottiglietta E chi cazzo, oh aiuto Vabbè, aspettate E vabbè, dove sta l'acido borico Quando ne ho messa Mano Non mi sta troppo Aspettate Mi chiede un fratello Così si impara E ora sta piangendo Non so se lo sentite Starà piangendo nella casa Vabbè, dove sta l'acido borico? No, l'acido borico La soluzione Che a me sembra sta bottiglietta Molto goffa Versiamo qualche goccia alla volta È la prima volta che faccio Un Jiggly Slime Con voi Perché ne ho tanti Però Non Alcuni sono sciolti Oppure sono dei Jiggly Flasti Che non sembra che sono troppi Perché però Mi vengono tutti Cioè non mi vengono proprio Jiggly Dopo qualche settimana mi viene Come diventa? Diventa glossy Cioè, tipo glossy E non si scioglie Perché io ne metto Non so quanto L'acido borico Quante soluzioni metto L'acido borico ce l'ho ancora lì Nella scatolina In una bottiglietta Però senza l'acqua Perché risposto di farlo Ho fatto direttamente la soluzione E via Perché già era fatta Però a me Il renou Anche se non ho messo Il bicarbonato Stavolta Non l'ho messo Perché mi sono dimenticato Però funziona lo stesso Non capisco perché A Yolanda La renou Funziona solo con La cosa Con Con il bicarbonato E invece no Forse sarà la colla Che funziona solo con il bicarbonato Mi sono troppo troppo Abbondato Abbondato Sarò Eccolo Sentite Mi fa Nello che si sbatte Sarà Posso dire Spesso che volevo dire Però Non mi pare Vabbè Questo video sarà un po' più corto Degli altri Perché di solito parlo sempre Parlo sempre E devo sputare un po' c'è Anche se non mi scoccio E poi ho chiesto in una casa E poi ho preso perché da potevo scendere Perché io mi scoccio di stare qui Quindi scendo con la mia boffo E poi Roberta Anche se c'è pure Gaia E Gabri19 Vediamo che a loro gli arrivano questa notifica A Roberta non lo so perché non so se è iscritta Poi a Gaia A Gaia random A Gabri19 Non so se c'è arrivato questa notifica Però penso A Gabri e a Cana Sì Vedi i miei video Comenzano Non speccate Ora tenso lo slime E poi li farò vedere Lo slime si è sciolto Vabbè poi l'ho buttato Vabbè ho fatto il video E ciao